Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, prima di parlarvi del titolo di questo video, volevo un attimino fare un passo indietro al video che vi ho presentato stamane. Io, come spesso mi capita, ho avuto modo di leggere i vostri messaggi, che in gran parte sono molto interessanti. Ora, la cosa che ho potuto notare è che però c'è ancora un po' di difficoltà nel comprendere fino in fondo quelli che sono i reali rischi di questa epidemia che ormai è diventata una vera e propria pandemia. Ora voglio darvi alcune informazioni e voglio fare alcune riflessioni. La prima è che purtroppo le autorità italiane hanno drammaticamente sottovalutato i rischi di questa epidemia, malgrado avessero davanti agli occhi quello che stava succedendo in Cina e malgrado qualcuno dell'opposizione avesse suggerito di mettere in quarantena coloro che provenivano dalla Cina. Ma questo non è il momento di fare polemiche, perché è il momento di trovare soluzioni. Ma la cosa ancora più importante da sottolineare è che se da un lato è una cosa positiva che ci sia un unico grande focolaio in Italia e cioè in Lombardia, dall'altra parte rovescio della medaglia questo crea un grande problema alla sanità lombarda che pur essendo molto efficiente si trova in difficoltà in particolare per quanto riguarda i posti letto della terapia intensiva. Anche qui vi do un'informazione. Inizialmente si era parlato per molto tempo che circa il 5 per cento dei pazienti avrebbe avuto bisogno della terapia intensiva. Purtroppo in Italia i numeri sono molto più alti perché circa il 10-15 per cento ha bisogno di questo tipo di terapia. Infatti a ieri la protezione civile ci conferma che sono oltre mille i pazienti in terapia intensiva. Ora voi capite anche se tutti i giorni la sanità lombarda sta facendo degli sforzi immensi per creare dei posti letto questo non può essere all'infinito. Ecco perché il pericolo è che se questa questo contagio non rallenta prima o poi la sanità lombarda non sarà in grado di assicurare a tutti i pazienti un'adeguata terapia e voi capite che questo può mettere maggiormente a rischio le vite dei pazienti. Ecco perché l'unica cosa laddove è possibile rimanere a casa se siete costretti perché la spesa bisogna farla di uscire di equipaggiarvi bene come vi ho detto stamane e queste sono le cose che bisogna assolutamente rispettare ed è l'unica maniera perché il virus si propaghi meno velocemente e non mandi in tilt la sanità lombarda. E veniamo al titolo di questo video Defender 2020. Defender 2020 è un'esercitazione militare dei 18 paesi della Nato. Ora noi sappiamo che negli ultimi giorni nelle ultime settimane sono arrivati in Europa circa 20.000 soldati statunitensi. La maggior parte nei vari aeroporti europei per quanto riguarda invece camion cingolati e cararmati sono sbarcati a Bremershafen nella regione del Brandeburgo in Germania e sono diretti a Lenin dove ci sarà la logistica dei militari americani e dei mezzi di trasporto. Ora io oggi voglio fare una cosa insieme a voi. Io voglio darvi alcune informazioni chiaramente da fonti estremamente attendibili e poi così leggere i vostri messaggi, i vostri commenti nella speranza che poi scaturisca anche un certo un certo dibattito e dove io poi magari mi possa inserire e vi potrò dire anche quello che è il mio punto di vista. Ora io come ho più volte avuto modo di dirvi non sono qui per fare del sensazionalismo, non sono qui per esagerare i racconti e per farvi dei racconti di fantascienza per avere maggiore seguito e maggiore audience. Una cosa che non fa parte del mio modo di essere, non fa parte di quelli che sono i miei obiettivi. Io ripeto, rimango sui fatti, guardo molto attentamente alle fonti e poi visto che ormai ho una certa età cerco anche così di sfruttare la mia esperienza e di ragionare sulle cose. La prima cosa sulla quale voglio ragionare insieme a voi è questa. Tutti quanti siamo al corrente che Trump, gli Stati Uniti hanno deciso di chiudere le frontiere a tutti i paesi europei escluso la Gran Bretagna. Quindi nessun europeo può entrare negli Stati Uniti. Perché qual è la grande paura? Quella che ci possono essere degli europei che arrivano negli Stati Uniti per turismo o per lavoro che contagiano gli americani. Ora, quello che però si fa fatica a capire è come dall'altra parte il governo americano decida di mandare in Europa semplicemente, tra virgolette, ma pur sempre per una esercitazione, 20.000 uomini. Le cose sono due. O agli americani interessa poco della salute dei propri uomini oppure c'è un qualcosa che noi non vediamo. Io vi dico quello che ho letto su qualche social che chiaramente secondo me è un po' fantascientifico. Quello che siano già vaccinati, ma è perlomeno improbabile perché avrebbero dovuto essere loro a far infettare tutto il mondo. E ripeto, sono cose abbastanza fantascientifiche. Rimaniamo su questa considerazione. Loro chiudono le frontiere, nel contempo mandano 20.000 uomini in Europa. Prima riflessione. La seconda riflessione che voglio fare, che poi è legata un po' alla prima. Ora, questa è una esercitazione, come vi ho detto. Non è un intervento militare. Tu dici, devo assolutamente intervenire in quel territorio perché c'è in atto una guerra. Non posso assolutamente farne a meno. Figuriamoci se la posso rimandare. Però un'esercitazione sì, avrei potuto rimandarla. E come? Invece, come è programmata di farla nella primavera del 2020, avrei potuto rimandarla all'anno prossimo. E invece, come sappiamo, questo non è stato fatto. Non si è voluto rimandare questa esercitazione. Esercitazione che sarà fatta in gran parte in Polonia, in Belgio. E poi qui apro una parentesi. Da qualche parte ho letto che l'Italia non verrà convolta. Sta di fatto che molti mezzi cararmati, cingolati, sono sbarcati in Sicilia. Magari poi andranno direttamente verso il centro Europa. Sta di fatto che comunque anche in Italia, oltre che in Germania, sono sbarcati molti mezzi da trasporto, molti mezzi di guerra, molti mezzi militari. Questa è la situazione. L'altra considerazione che vi voglio fare è questa. Abbiamo detto che a questa esercitazione partecipano i 18 paesi della Nato. Ma oltre a questi partecipa anche la Georgia. Ho potuto verificare questo da fonti ufficiali in Germania. La Georgia parteciperà a questa esercitazione, pur non facendo parte della Nato. Parentesi. La Georgia, se vi ricordate bene, è il paese che fino a pochissimo tempo fa ha avuto un conflitto, per ragioni chiaramente di territorio, di spartimento dei territori, con la Russia. Con un conflitto militare piuttosto importante. E sappiamo bene che tra Georgia e Russia non corre buon sangue. Però questo può essere solo un particolare. Sta di fatto che la Georgia partecipa all'esercitazione, pur non facendo parte della Nato. E poi abbiamo un'altra considerazione che vi voglio fare. Anzi, questa è più che una considerazione, è una notizia. Che il portavoce della Bundeswehr, che sarebbero le forze armate tedesche, il portavoce, ha dichiarato, in qualche modo, che questa è anche un'esercitazione in risposta all'annessione della Crimea alla Russia. Voi capite che questa è un'affermazione piuttosto importante. Io ci porta a fare delle riflessioni, necessariamente. Quindi abbiamo, ricapitolando da un lato, Trump che se ne frega, oppure avrà le sue ragioni che non conosciamo e manda, malgrado il coronavirus, 20.000 militari in Europa. Abbiamo una nazione fuori dalla Nato, come la Georgia, che vi partecipa. l'esercitazione, che malgrado tutto non si vuole rimandare, e benissimo l'avrebbero potuto fare. E, dulcis in fundo, abbiamo il portavoce delle forze armate tedesche, che dichiara che è un qualcosa anche in risposta all'annessione della Crimea alla Russia. Quindi questi sono gli elementi di riflessione che potete analizzare. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona serata. Ricordo sempre a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al mio canale e ci sentiamo domani.